Per Pompetti lo stop è stato non lungo, lunghissimo, perché oltre al periodo di riposo e riposo forzato a causa Covid c'è stata la squalifica, ma finalmente domani torni in campo. Auteri in conferenza ha detto, per la prima volta dico che è veramente una partita importantissima per noi. Sì, sicuramente mi è pesato molto stare lontano dal campo, soprattutto perché comunque il campionato è stato slittato di due partite di due settimane e poi in più appunto ero squalificato, quindi non ho potuto giocare contro il Montevarchi. Adesso sono contento che questa settimana sono potuto tornare a disposizione del gruppo, del mister, non vedo l'ora che arrivi domani la partita. Il mister ha detto benissimo, perché comunque se sappiamo che tutte le partite sono difficili da affrontare, quella di domani secondo noi ancora di più e dobbiamo avere la giusta concentrazione, dobbiamo entrare in campo subito decisi perché loro sono una squadra importante che si sono rinforzati a gennaio e ci può mettere in difficoltà. Non riesce a fare questo esordio in coppia con Derisio perché una volta squalificato tu, una volta il problema di Carlo è solo rimandato, però diciamo che la squadra ora ha la sua identità. Sicuramente Carlo è un ottimo giocatore, siamo molto contenti che adesso gioca con noi, però comunque io penso che siamo tutti dei validi giocatori, anche nel particolare a centro campo e poi come dico sempre il mister che fa le scelte, noi dobbiamo semplicemente pensare ad allenarci forte e rispettare quelle che sono le sue scelte. In tutto questo tantam di mercato uno dei nomi che non è mai uscito è quello di Pompetti, ma è impossibile che uno come Pompetti non abbia richieste, telefonate. Qual è il futuro che sogna Marco? Io ho già detto, già prima che si aprisse il calciomercato, che il mio unico obiettivo e desiderio era quello di rimanere a Pescara perché voglio continuare a fare un grande campionato, voglio tornare delle soddisfazioni qui perché sono tifoso di questa squadra. Io devo semplicemente pensare al campo e poi al resto, a quello che succede fuori dal campo, al futuro, ci si penserà per tempo. Chiedo un'ultima cosa, simpatica, perché nella nostra trasmissione a Cenacon ho chiesto a Luca Clemenza, ballottaggio tra i gol più belli dell'anno, quello di Pompetti a Chiavari e quello tuo a Gubbio. Non c'è storia quello di Pompetti, hai risposto? Io ringrazio Luca, se ha detto così, però anche il suo è stato sicuramente un gol bellissimo, però fa piacere che tutti e due abbiano segnato due gol bellissimi e poi adesso vedremo a fine anno cosa verrà fuori e quale gol voteranno.